grazie 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 258 grazie veramente wow veramente raga non so cosa dire veramente un grazie un grazie un grazie di cuore a tutti voi a tutti voi cittadini galbiatesi da tutte le frazioni che mi avete votato sono stato il più votato ho raggiunto il maggior numero di preferenze 258 in tutto il comune veramente grazie un grande risultato è ovviamente una grande 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 responsabilità adesso è veramente non vedo l'ora di mettermi al lavoro è chiesto di combattere per voi combattere per aumentare la sicurezza per migliorare il comune in cui viviamo e combattere al fianco di tutte le associazioni sportive del paese per tutti i giovani per tutti i giovani che troppe volte vengono messi da parte da persone che hanno doppi fini doppie cose e quindi è importante portare anche qui a galbiate un po di limpidezza e giovani che veramente vogliono fare giovani indipendenti e liberi da vecchi sistemi e vecchi modi di pensare e a vecchie costrizioni quindi veramente 258 grazie un risultato incredibile isperato e veramente sono veramente sorpreso grazie 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 davvero e ora veramente lavoriamo insieme per migliorare il nostro comune e veramente far ripartire alla grande anche lo sport grazie grazie davvero un abbraccio da Andrea Rusconi